Amici telespettatori, dedichiamo oggi il nostro appuntamento di approfondimento con la partecipazione dell'onorevole Giuseppe Parroncini, consigliere regionale del Partito Democratico. Abbiamo con noi come sempre con le domande che rivolgeremo all'onorevole Parroncini, il collega Gaetano Alaimo, direttore di Newtusha, il giornale online di Viterbo. Iniziamo subito ringraziando l'onorevole della sua partecipazione con la domanda che riguarda le infrastrutture viarie della nostra provincia. Sappiamo che saranno dei bilanci molto ridimensionati, quelli del 2011, ma alcune priorità come la superstrada, la trasversale Orte-Viterbo-Civitavecchia ed altre linee ferroviarie pensiamo che possano avere uno sviluppo fondamentale. Come l'onorevole Parroncini ci delinea un po' questa situazione? Innanzitutto vi ringrazio dell'invito. È importante partecipare a questo tipo di dibattiti perché è anche un modo per informare rispetto al lavoro che facciamo in Regione. Per quanto riguarda le infrastrutture, nell'ultimo bilancio regionale approvato prima di Natale abbiamo salvato in Estremis il finanziamento per la trasversale, per la Orte-Viterbo-Civitavecchia perché attualmente ci sono i lavori per un tratto di 7 chilometri dallo svincolo delle farine all'Aurelia Bis. I lavori partiti a maggio del 2009 e 24 mesi di tempo per completare i lavori verranno consegnati a maggio del 2011 e quindi dopo 30 anni, perché i lavori fermi dal 1980 sono ripartiti grazie anche al centrosinistra, alla Regione, alla gestione Marrazzo. Mi ricordo che Marrazzo riaprì il cantiere nel 2009. Con anche degli stanziamenti se non vado errato. Sì, poi questo volevo dire, nel bilancio 2007 della Regione abbiamo stanziato 100 milioni di Euro, fu lo stanziamento più importante in quel bilancio, per proseguire i lavori, diciamo dopo l'Aurelia e inspiegabilmente nell'ultimo bilancio regionale, quando ci è stata consegnata alla bozza approvata dalla Giunta, quei 100 milioni erano spariti. Abbiamo fatto una mobilitazione, anche i sindacati si sono mobilitati, addirittura hanno interrotto la Cassia all'altezza dello svincolo della superstrada e grazie a questa mobilitazione sono stati rimessi i fondi, quindi nell'attuale bilancio 2011 della Regione ci sono non tutti e 100, ma i 100 sono diluiti 2011, 2012, 2013. Però non bastano, perché ci vuole un cofinanziamento del governo, in questo caso del Cipe, e che si guarda bene dal fare, come magari per l'aeroporto di Viterbo, perché sull'aeroporto di Viterbo abbiamo sofferto molto. Io ricordo consigli regionali drammatici con le delegazioni di Latina e Positone che venivano a rivendicare loro l'aeroporto, cioè nel loro territorio, però grazie al governo Prodi, al Ministro Bianchi, grazie alla Regione Lazio fu individuato Viterbo, però tutto si è fermato, ormai sono tre anni e tutto è fermo e il punto vero è che ADR Aeroporti di Roma non interviene sullo scalo se non c'è la garanzia per le infrastrutture, se non c'è un collegamento veloce con Roma, soprattutto dal punto di vista ferroviario e questo stanziamento lo deve garantire il governo, anche in questo caso il Cipe. Quindi sulle infrastrutture non siamo messi bene, perché la trasversale abbiamo salvato il finanziamento, ma non c'è nessuna certezza per la cifra rimanente. L'aeroporto c'è una situazione di stallo, addirittura la ferrovia Roma Civita Castellana Viterbo, che è una ferrovia regionale, l'unica ferrovia regionale di proprietà della Regione, lì avevamo stanziato 320 milioni di fondi POR, che sono fondi europei, fondi strutturali e anche quella è stata refinanziata e ancora non si sa quanto la Regione metterà di fondi propri. Quindi il punto vero è che non c'è una grande attenzione sul tema infrastrutturale. La Regione in questo anno di gestione del centro-destra è diventata un po' più romanocentrica, ha perso un po' di respiro sul territorio, per esempio anche su una ferrovia importante, la Orte Capranica Civita Vecchia, che fu chiusa nel 61 dopo una frana il tratto Civita Vecchia Capranica, poi nell'84 è stato chiuso Capranica a Orte perché non era economicamente vantaggiosa, come dicevano a quel tempo le ferrovie dello Stato, eppure sarebbe un collegamento importante. Lì noi abbiamo stanziato 2 milioni di euro per un studio di fattibilità, la Regione, il centro merci di Orte e l'autorità portuale di Civita Vecchia. Abbiamo trovato 2 milioni di euro, adesso si fa uno studio di fattibilità. Ecco, però al di là dello studio di fattibilità ci vorrebbe un impegno serio per trovare i fondi, comunque avere una sua riapertura o comunque un'utilizzazione che può essere ai fini commerciali, ai fini turistici. Ripeto, ci vuole una visione strategica e secondo noi questa visione strategica oggi è un po' carente. Onorevole, un altro tema che ha visto impegnato il Partito Democratico riguarda l'energia e il paventato ritorno al nucleare che vorrebbe il governo Berlusconi. C'è stato qualche giorno fa un incontro che è stato organizzato dal Partito Democratico del Lazio e della Toscana, non a caso a Montalto Di Castro che è uno dei posti dove potrebbe tornare il nucleare. Può riassumerci questo incontro e qual è il suo parere? Sul nucleare ci sono state due novità importanti. La prima è la sentenza della Corte Costituzionale che in pratica obbliga il governo a sentire il parere delle regioni su eventuali insidamenti di centrali e nucleari. Quindi il governo non può scavalcare la regione Lazio in questo caso, deve sentire il parere obbligatorio. L'altra novità è che il 24 novembre al Consiglio regionale abbiamo presentato una mozione, primo firmatario Bonelli dei Verdi, secondo firmatario io del Partito Democratico e in questa mozione si diceva chiaramente che la regione Lazio doveva dare indisponibilità per qualsiasi insidamento nucleare a partire dal sito di Montalto Di Castro. I capigruppo di maggioranza si sono pronunciati contro la mozione che era stata naturalmente presentata da noi come opposizione. Nell'aula la maggioranza si è spaccata e la mozione è stata approvata. Quindi è stato un risultato importante, una vittoria significativa, anche perché in molti consiglieri ha prevalso il voto di coscienza rispetto all'indicazione di scuderia. Ora la polverina deve tenere conto di questo pronunciamento del Consiglio regionale perché i consiglieri sono l'espressione del territorio. Questo rafforza la nostra contrarietà al sito di Montalto Di Castro perché qual è la nostra preoccupazione? È che se parte questo piano del governo di quattro centrali nucleari, il sito più esposto, il maggiore indiziato è Montalto Di Castro perché lì c'è un'area di 300 ettari che è l'area di pertinenza della vecchia centrale nucleare. Ci sono le opere di presa a mare che sono per il raffreddamento della centrale, ci sono gli elettrodotti, c'è già un'area di proprietà dell'Enel e quindi da questo punto di vista lì è facile, si entra e si ricominciano i lavori. È un sito naturale quasi. Sì, il sito naturale anche perché oggi ci sono problemi di individuare il sito di una discarica in Italia, figuriamoci, di una centrale nucleare, non la vuole nessuno e quindi l'Enel quel sito è di proprietà e partirebbe da lì. Allora la mobilitazione è importante, far sentire la nostra voce anche perché abbiamo già provato il grande cantiere noi, io me lo ricordo. A quel tempo già operavo nella Maremma con l'allora Partito Comunista, addirittura in una prima fase eravamo favorevoli al nucleare, poi dopo Cernobile c'è stata una riflessione, il referendum è dell'88, gli italiani che a sta grande maggioranza si sono pronunciati contro il nucleare, lì si passò alla centrale policombustibile, quella che c'è adesso che va a olio combustibile, a gas. Ricordo che le grandi ditte del nord che venivano a fare i lavori, la manodopera locale che faceva solamente bassa manovalanza, le ditte locali che dovevano lemosinare subappalti, insomma non ci serve un altro grande cantiere di questo tipo, al di là della contrarietà all'energia nucleare che non è una cosa ideologica, però è anche, è soprattutto un problema del modello di sviluppo che vogliamo, in quel tratto di costo abbiamo già due grandi centrali, quella di Montalto e quella di Scida Vecchia che tra l'altro va a carbone, che producono insieme più di 4.000 MW e molto più di quello che consuma il Lazio, quello che producono le due centrali, quindi a cosa serve un'altra grande centrale? Lavoriamo sulle energie alternative, sulle energie rinnovabili, sul fotovoltaico, sulle biomasse, sull'eolico, naturalmente con un impatto compatibile con l'ambiente, col paesaggio perché non bisogna amitizzare le energie rinnovabili, cioè servono, vanno fatte, però vanno fatte diciamo con un piano regolatore del territorio, non è che si può passare da una esagerazione ad un'altra, per esempio io ho fatto in Regione per pochi mesi, perché per sei mesi l'assessore alle reti energetiche, mi ricordo che ho preparato il piano energetico regionale, era all'ordine del giorno del Consiglio e poi qualche giorno prima è successo il fatto di Marrazzo e quindi non abbiamo più proceduto a discutere il piano energetico regionale, però mi ricordo bene perché lo facemmo con grande attenzione e noi prevedevamo di passare da 400 MW di energia rinnovabile che erano già, la potenza in esercizio è autorizzata a quel tempo, 400 MW, pensavamo di arrivare al 2020 con 2500 MW, quindi tenete conto che Montalto, la grande centrale nucleare che si vuole fare sarà di 1600 MW, quindi noi con 2500 MW di energia rinnovabile nel 2020 eravamo a posto, insomma saremmo a posto perché è in esubero del 13% rispetto all'energia che consuma il Lazio, ecco questo allora il punto, questo qua non ci serve la grande centrale perché le vocazioni nostre sono l'agricoltura, sono il turismo, sono la cultura soprattutto nella fascia costiera, pensiamo ai comuni di Montalto e Tarquini a quello che rappresentano dal punto di vista turistico, pensiamo a Tarquini al punto di vista culturale come sito dell'UNESCO, insomma che cosa c'entra con una centrale nucleare nel nostro territorio e quindi siamo fermamente contrari, abbiamo fatto questa iniziativa a Montalto l'altro giorno insieme al Partito Democratico della Toscana, anche loro sono convinti perché le vocazioni della Toscana sono spiccate molto più delle notte dal punto di vista turistico, culturale e ambientale e quindi noi siamo per una posizione ferma, invitiamo la Presidente Polvergine a tenere conto dell'espressione del Consiglio regionale e a opporsi a qualsiasi idea di insediamento nucleare nel Lazio ma soprattutto nel Viterbesa e a Montalto di Castro. Bene, ecco lei ha toccato giustamente uno degli argomenti fondamentali che volevamo un pochino approfondire ed è quello della tipicità, della produzione tipica locale e soprattutto ecco un po' del coacervo che si viene a creare tra l'ambiente e i giacimenti culturali, abbiamo parlato di Tarquinia, possiamo parlare ecco Tuscania stessa, Viterbo, il Cavoluogo, la Teverina fino poi ecco i laghi e i cimini. Come in regione viene vista ecco poi dal vostro punto di vista un sistema di sviluppo ecco che potrebbe vedere il Viterbese con la Tuscia Viterbese ecco come polo fondamentale, non nascondiamo anche l'Università, l'Università della Tuscia che è essa stessa e poi fa da un po' catalizzatore di questo ambito e di questo ambiente. Sì, beh dicevo prima le vocazioni, le nostre vocazioni sono agricole, culturali e ambientali naturalmente l'Università della Tuscia può rappresentare quella marcia in più per valorizzare la professionalità, la qualità delle produzioni, la ricerca, effettivamente come dire siamo in una postazione privilegiata perché l'altro giorno sono stato a visitare l'istituto agrario di Bagnoreggio, l'unico istituto agrario che c'è diciamo nell'Alto Lazio, attrae anche studenti dalle regioni limitrofe, l'Umbria e la Toscana e lì ci sono più di 200 studenti che studiano agraria, ecco la filiera poi l'Università di Viterbo, la facoltà di agraria, questo serve a qualificare la nostra offerta agroalimentare perché effettivamente noi abbiamo una gamma di produzioni che pochi possono vantare, tra l'altro anche come numero di addetti siamo la provincia agricola del Lazio e insieme a Latina, ovviamente Latina ha solamente la pianura, la pianura pontina, quel luogo mitico che adesso ho letto il romanzo di Pennacchi, Canale Mussolini, molto bello nell'insediamento dei coloni durante il fascismo che furono portati da altre zone d'Italia, soprattutto dal Veneto, ma anche dalle nostre parti, dall'Umbria, dal Lazio, mi sono un po' ritrovato perché io ho vissuto la bonifica dell'ente Maremma, quella degli anni 50, la famosa legge stralcio, i poteri, ma il concetto era quello, un appezzamento di circa 15 ettari, il casale, quindi la famiglia che si andava a insediare, per dire abbiamo una forte tradizione agricola, rurale, perché prima un territorio rurale veniva visto come un punto di debolezza, oggi un territorio rurale viene visto come un punto di forza perché significa produzione agroalimentare, significa ambiente, significa la custodia del territorio perché un agricoltore custodisce un territorio, non lo abbandona, come magari succede spesso nelle zone interne, perché noi abbiamo alcune zone che soffrono, penso all'Alto Viterbese, ma anche un po' la Teverina, il dispopolamento, la Teverina ha altre potenzialità, il paesaggio, le produzioni, l'olio, il vino, però altri territori magari soffrono più di spopolamento. E allora sono queste le nostre miniere, le nostre risorse, le produzioni agroalimentari e soprattutto una politica di promozione, questo lo deve fare la regione, lo deve fare la provincia, la Camera di Commercio e su questi temi noi siamo disponibilissimi a collaborare con tutte le amministrazioni perché quando c'è da portare a casa un risultato non bisogna farsi frenare dalla contrapposizione pregiudiziale, ma bisogna andare nel merito e se c'è un provvedimento che serve al territorio, alla crescita economica, a creare occupazione bisogna lavorare tutti insieme al di là del colore politico, al di là delle collocazioni di maggioranza o di opposizione. Ecco su questo io sono molto sensibile, molto collaborativo anche rispetto alle proposte che vengono avanzate. La sanità è un altro tema importante, l'atto aziendale del direttore generale dell'ASDL è stato sulle prime pagine di tutti i giornali locali e chiaramente in generale il piano di razionalizzazione del commissario Polverini. Qual è lo stato dell'arte, che cosa si può dire degli ultimi tempi di questo atto aziendale? Lo stato dell'arte è che ormai sono più di un mese, un mese e mezzo, che il direttore generale dell'ASDL di Viterbo ha presentato un atto aziendale che noi abbiamo ritenuto insoddisfacente. Lo ha presentato alla conferenza dei sindaci e naturalmente i sindaci hanno invitato il direttore generale a rivederlo e a riportarlo. Ora si vocifera che verrà portato entro la fine di febbraio. Vedremo questo atto aziendale come verrà corretto. Il punto vero però è la fonte, e la fonte sono i decreti della Polverini, del Presidente della Regione, perché non solo c'è uno stratagemma che è veramente da rigettare. Qual è questo stratagemma? È che mentre prima i posti letto venivano calcolati per ogni ASL, per intenderci, è una media nazionale, non è che se la inventa la Regione Lazio. Per 1.000 abitanti ci devono essere 3,3 posti letto per acuti, quindi la provincia di Viterbo con 310.000 abitanti ha circa 1.000 posti letto. E noi siamo sottodotati, perché noi siamo a 2,3 posti letto, quindi ci manca uno per 1.000 su 310.000 abitanti sono 310 posti letto. 310 posti letto sono tre piccoli ospedali, come Tarquinia e come Civita Castellana. Allora, per non adeguare i posti letto in provincia di Viterbo, la Polverini ha inventato le macro aree, quindi adesso i posti letto invece di calcolarsi per ogni ASL si calcolano nella macro area e la macro area nostra comprende le ASL di Viterbo di Riedi, di Civita Vecchia e due grandi ASL di Roma con due grandi ospedali come il Bambin Gesù, il Sant'Andrea. Allora, noi siamo oltre i 3,3 posti letto nella macro area. Perché siamo oltre? Perché gli ASL di Roma stanno al 6-7 per 1.000 e noi rimaniamo a 2,3, questo non va bene, perché si drenano i posti letto su Roma sguarnendo il territorio. Infatti noi perdiamo alcuni servizi essenziali, cioè prima dei decreti della Polverini in provincia di Viterbo si nasceva a Civita Castellana, a Viterbo e a Tarquinia, i tre punti nasciti nella provincia di Viterbo. Con alcune eccellenze anche. Sì, con alcune, certo. Adesso con i decreti di Polverini si nasce solo a Viterbo e a Tarquinia, a Civita Castellana non si nasce più. Già sono successi alcuni episodi antipatici, pericolosi anche, perché tante donne sono andate lì pensando che c'era ancora il punto nascita, invece sono state dirottate con problemi seri dal punto di vista poi dell'assistenza. Però, allora, si accorpano i circa 400 parti di Civita Castellana a Viterbo, però a Viterbo si smantella la terapia intensiva nel Natale, che era un fiore all'occhiello. Perché, diciamo, significa che è un parto complicato, io ci sono stato a visitarla, ci sono neonati di un chilo, di sette etti, che devono stare anche mesi nell'incubatrice. Cioè, questa è la terapia intensiva neonatale. Se noi leviamo la terapia intensiva, è inutile che accorpiamo i parti a Viterbo, perché significa che se c'è un parto complicato non si va più a Viterbo, si va a Roma, si va da un'altra parte dove c'è la terapia intensiva. Allora, sono scelte strampalate queste, che indeboliscono la sanità viterbese. Penso anche al reparto di senologia. Sapete che nella sanità ci sono la serie A, la serie B e la serie C, come nel calcio. La serie A sono le unità complesse, la serie B sono le unità a valenza dipartimentali, la serie C sono le unità semplici. La senologia che era la serie B, valenza dipartimentale, è stata deglassata in serie C, a unità semplice. Significa che c'è anche meno potere con le salle operatorie, quindi arriva per ultima. Sarà la senologia, addirittura c'è un'associazione che ci sono 2.000 donne, purtroppo, che hanno avuto o hanno problemi di questo tipo. Ma come si fa a deglassare quella struttura che tra l'altro è considerata un fiore all'occhiello della sanità viterbese? Ho visto che l'altro giorno anche il sindaco di Viterbo, Marini, ha invitato il direttore generale a non deglassare senologia, però non ci dovrebbe essere questa cosa. Io l'ho detto all'inizio che sarebbe uno scempio deglassare una struttura di quel tipo. E quindi siamo stati e rimaniamo, fino a che non vediamo il nuovo arte aziendale, molto critici, anche per l'indebolimento dei due presidi che fanno parte del polo ospedaliero centrale insieme a Belcolle, che sono Montifiascone e Ronciglione. Montifiascone e Ronciglione servono a fare un filtro importante per Belcolle, anche perché a Ronciglione si fa la desageri, quindi alcuni interventi a bassa complessità vengono fatti lì, non vanno a intasare Belcolle. Indebolendo questi due ospedali si grava troppo su Belcolle, anche perché oggi mi dicono che ci sono letti nei corridoi, alcuni ricoveri vengono dirottati da altre parti, molte volte il pronto soccorso è intasato perché non c'è poi la possibilità di ricoverare i pazienti. Sono alcune cose che non condividiamo, poi l'ospedale di acquapendente secondo me è una cosa vergognosa quello che prevede l'arte aziendale, perché acquapendente in pratica si chiude l'ospedale, si passa da 72 posti letto a 8 posti letto, si chiude il pronto soccorso, si chiude la chirurgia, da acquapendente per arrivare a Belcolle c'è l'onore un quarto, cioè se noi indeboliamo acquapendente significa che un'intera area della nostra provincia rimane scoperta e questo con un pericolo che poi i nostri pazienti vanno nelle altre regioni, perché in Toscana e in Umbria la sanità funziona, perché se noi indeboliamo scivita castellana magari si va a Terni o si va a Narni, si va a Orvieto, da acquapendente si va prima ad andare a Orvieto che ad andare a Viterbo, per le cose più complicate si va a Siena, allora la Polverini fa questi provvedimenti perché dice che vuole risparmiare, invece è così, è il contrario, perché poi le regioni che curano i nostri malati ci mandano il conto a piedi lista, se si fa un appendicite a Narni la regione Umbria ci manda il conto di quanto costano le appendicite, questo è un accordo tra regioni, nel 2009 l'ultimo bilancio disponibile l'Asile di Viterbo pagava 40 milioni di Euro di prestazione ad altre regioni e tenete conto che il bilancio dell'Asile di Viterbo è di circa 400 milioni di Euro, quindi significa che il 10% dei nostri malati già si andavano a curare fuori, con questi provvedimenti rischiano di andare più e quindi invece del risparmio sarà un passivo superiore. Ascolta un particolare, noi nella conferenza stampa di fine anno che nel Presidente Meroi abbiamo ricordato, ho ricordato la provocazione del Sindaco di Acquaprendente che minacciò neanche troppo scherzosamente di staccarsi, di fare un referendum per accorparsi o all'Umbria o alla Toscana nel caso in cui questo provvedimento passasse, lei lo considera anche lei una provocazione o c'è realmente il rischio di fratture anche territoriali di questo tipo? Sì, è una provocazione perché purtroppo non si può proibire di ammalarci, però è servita a sollevare l'attenzione dell'opinione pubblica. Io parlavo anche del distaccamento proprio territoriale del comune di Acquaprendente. E hanno anche minacciato di fare un referendum per passare alla Toscana. Comunque da non sottovalutare queste cose perché c'è un'esasperazione nella popolazione perché per esempio Acquaprendente, l'ospedale, è la più importante azienda, è più importante del comune, di qualsiasi altra cosa. Non c'è un'azienda che crea tanti posti di lavoro come l'ospedale. Ma al di là dei posti di lavoro, un ospedale crea anche coesione sociale, soprattutto in una realtà periferica. Dà anche fiducia perché per un cittadino di Acquaprendente pensare che c'è un pronto soccorso aperto 24 ore su 24, dove ci sono i medici, dove c'è l'anestesista, è un motivo per rimanere in quella comunità, per essere tranquillo. Se non c'è più l'ospedale, non c'è più il pronto soccorso, c'è il rischio di uno spopolamento. Per esempio i giovani se ne vanno perché non ci hanno già, ci sono problemi dal punto di vista del lavoro. Se mettiamo problemi dal punto di vista dell'assistenza e poi noi smantelliamo quella realtà, invece è importante tenere la coesione sociale, tenere uno spirito di comunità nell'Alto Viterbese. E quindi se poi, a parte qualche iniziativa che ho visto in altre regioni, ci sono stati movimenti di questo tipo comuni che hanno chiesto di limitrofi. Pensate che Acquaprendente confina con due regioni, c'è un punto vicino al Monte Rufeno dove c'è il confine della Toscana e il confine dell'Umbria. Quindi hanno anche la scelta. Può scegliere. Scegliere di andare con l'Umbria o con la Toscana. Quindi ecco, non sottovalutiamo perché poi se subentra l'esasperazione è possibile da qualsiasi scelta. Ecco, onorevole Parroncini, un'ultima domanda che riguarda una sua iniziativa di proposta di legge che richiama sia le realtà storico-rievocative della nostra cittadina di Orte, ma anche di Viterbo, di Ronciglione, Tuscania, di altre importanti realtà. Si tratta della proposta di legge che lei presentò qualche anno fa in Regione Lazio riguardo alle rievocazioni storiche, alla valorizzazione regionale delle rievocazioni storiche. Pensiamo a città come Anagni, anche come altre città importanti appunto della Regione. Ecco, a che punto è questa proposta di legge per la quale giustamente il nostro territorio e anche molte città importanti, perché sono sedi di rievocazioni storiche, aspettano da parte della Regione Lazio. Anche un po' con un elemento, anche se possibile rapido, una struttura. Cosa vuole questa legge regionale che lei ha proposto in Regione? La legge fu presentata nel 2008 da me, quando ero capogruppo del Partito Democratico, come proposta di legge, però non c'è stato modo di discuterla nella scorsa legislatura, quindi verrà ripresentata in questa legislatura ed è una legge che punta proprio a valorizzare queste manifestazioni storiche legate anche alle tradizioni, alla cultura, al sentimento popolare, penso all'ottava mediale di Orte, penso alle corse a vuoto di Ronciglione, penso ai pugnaloni di Acqua Pendente, a Santa Rosa a Viterbo, diciamo punta a creare un vero e proprio circuito di manifestazioni storiche nel Lazio e a valorizzarle non solo dal punto di vista storico, dal punto di vista anche dei finanziamenti, dal punto di vista anche della propaganda, dell'informazione anche al di fuori della Regione Lazio, perché questo io ritengo che le nostre manifestazioni abbiano una valenza nazionale, qualche volta anche internazionale, perché vanno nel profondo, ci sono alcune manifestazioni che affondano nei secoli la loro storia, la loro origine, quindi da questo punto di vista è importante, ma anche dare certezza, fare un elenco di queste manifestazioni, dare certezza anche dal punto di vista della normativa nazionale, perché per esempio con Rosvaldo Giubileo che è l'ispiratore di questa proposta di legge, è responsabile delle associazioni che si occupano di rievocazioni storiche, è stato lui che mi ha stimolato, sollecitato, anzi lo ringrazio da questi studi perché so che opera qui nella vostra realtà di orte. Questo punta anche a superare alcuni intracci burocratici, per esempio noi con la legge potremmo superare un problema che a Ronciglione ormai è diventato molto complicato, che è quello della tipicità di quella corsa, perché ci sono delle norme nazionali che dicono che i percorsi per i cavalli vanno predisposti in una certa maniera con degli accorgimenti, con la terra, ma Ronciglione è Ronciglione, la corsa dei cavalli di Ronciglione si corre su quel percorso da secoli, quindi noi specificando queste cose nella legge regionale possiamo superare alcuni impacci, intracci che ci sono rispetto alla normativa nazionale. Io sono dell'idea che a noi serve uno strumento legislativo perché, ripeto, le manifestazioni, prima parlavamo dei prodotti agroalimentari, ma le manifestazioni sono una leva economica nel nostro territorio perché arrivano centinaia di migliaia di turisti all'estate, nei vari periodi che portano economia perché ci sono le taverne, ci sono i ristoranti, si vendono i prodotti tipici, c'è tutto un discorso di prodotti locali che può essere abbinato a queste manifestazioni storiche, quindi diventano una leva economica, altro che la centrale nucleare. Se noi facciamo una promozione seria, vera, delle tante manifestazioni, ma sono forse centinaia in provincia di Viterbo, non decine, centinaia. Ecco, se le mettiamo a sistema, con informazione adeguata, con un supporto anche dal punto di vista delle istituzioni, noi abbiamo una leva economica per quanto riguarda non solo il settore alberghiero e della ristorazione, ma anche l'artigianato, io penso l'artigianato tipico che è fondamentale per quanto riguarda la nostra economia. Allora io spero di riuscire insieme ad altri consiglieri a portare avanti la discussione prima in commissione e poi in aula di questa legge, in modo che abbiamo una certezza rispetto a questo tipo di manifestazioni che sono una leva fondamentale del nostro territorio, della nostra cultura, della nostra storia, ma anche della nostra economia. Bene, ecco Gaetano, un'ultima bene. Io approfitto velocissimamente in chiusura per ringraziare l'assessore Parroncini, l'ex assessore Parroncini, l'apsus è dato dal fatto che quando era assessore ci diede il patrocino sul DVD su Santa Rosa che stiamo lavorando, speciale Fiore del Cero, questo per completare il discorso sulla tipicità e le manifestazioni tipiche del Viterbese. Ecco, con questa attenzione che diciamo è al di sopra un po' delle partizioni politiche, ecco proprio può essere veramente uno strumento che può valorizzare i nostri territori e questo poi diciamo e auguriamo buon lavoro anche all'onorevole per questa sua attività. Grazie